Quando il gatto non c'è i topi balla Io sto qua dalle otto e mezzo Siccome tu hai fatto tardi Federico se n'è già andata E' venuto e se n'è andata Non sto scherzando alla prova a video Ed eccoci ricostituiti con i ritardatari Che fanno ritardo perché io non ci sono O meglio non ero annunciato Prima direzione Gavina Caspita raga ma fa caldissimo oggi eh Non potete capire che caldo fa La situazione non è migliorata Abbiamo iniziato a prendere acqua Scherzi a parte adesso va molto meglio Perché sta più avendo di meno Però una bella scaricatina ce la siamo già presa Che falle Sembra di essere tornati in Toscana Invece siamo solo dalle parti di Oppido Lucano Eh dobbiamo andare così fratelli Ah vedete che bella curvetta che c'erano qui No 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 Federico vai piano che qua è proprio bagnato Eccolo vedi Piano devi andare te l'ho chiamato Devi andare piano È bagnato Non puoi piegare così è bagnato Tu metti il piede giù vedi come scivola Stava volando Bello il tempo Sembra di essere tornati dalle parti di Enna in Sicilia due anni fa Quando non vedevamo oltre il nostro manubrio Fino a quando non ci sono i fulmini per me va tutto bene Guardate qua che bei tornanti che c'erano Ma è veramente improponibile oggi Infatti mappa 4 che forse in alcuni casi Comunque non ti esula dal guidare con prudenza perché qui l'asfalto lo potete notare è saponetta eppure sarebbe stato fichissimo guardate qua che belle curve poi con le gomme nuove e invece c'è l'acqua lì c'è un laghetto Comunque in questo momento sto riprendendo con la Insta 360 One X3 Utilizzando la funzione HDR Anzi Dynamic HDR Che è una figata perché in scenari come questi dove la luce magari cambia Avete in un tratto sole nell'altro ombra Lei riesce a darmi più o meno sempre la stessa gamma cromatica Azzardiamo la mappa 3 dai Oh si un po' di luce che caspita Guardate che paesaggi bellissimi di davanti a noi La Basilicata era da tanto che non la venivamo ad esplorare E l'abbiamo trovata bella verde Qui intanto si salta si decolla Noi la facciamo in contromano Perché ragazzi delle volte si parla di road strategy Quindi non è roba di non rispettare il codice della strada È roba di road strategy Guardate qua Enduro Ale con la 09 Qua è veramente territorio da tenere Però gli scenari ragazzi gli scenari Che spettacolo Eh la GoPro ovviamente si è bloccata E quindi ogni volta devi fare staccare metti batteria Queste cose per qualche ragione con i prodotti Insta 360 non succedono mai Ad ogni modo siamo praticamente arrivati a Pietragalla Io sono dato per disperso dagli altri probabilmente Ma purtroppo ho dovuto cambiare le batterie Ora vedrete il bel bacchettone della Insta qua davanti Perché purtroppo è alto Questo è l'unico difetto forse che gli riesco a trovare Per quanto lo si possa togliere dalla vista Magari facendo così ecco così fa già meglio Sempre un po' davanti agli occhi lo si ha Come sapete poi nella ripresa finale voi non lo vedete Questo è il bello perché il software cancella in automatico tutto L'asta non esiste più a quel punto Ah bene sempre lasciato aperto qui evviva Le taschine sempre aperte Andrea mi raccomando Poi avete visto lo schermetto che è bello Potete guardare e controllare tutto dal suo schermo Che è bello grande E il software sembra quello di un iPhone È assurdo ma Insta ha realizzato un software che gira veramente benissimo E che potete comandare al 100% questa volta Senza ricorrere all'app Ed è una comodità non da poco Dai depone bene speriamo di aver preso tutta l'acqua del giorno Già così non ne prendiamo altra Sta andando particolarmente cauto anche perché Le Dunlop TT da quello che ho letto Sono ottime gomme per l'estate ma Ho letto che sull'acqua non vanno granché Per il momento vi posso dire che Mi sembra vadano come le S22 onestamente Su questa moto Vedete l'arcobaleno è lì da prima Questa One X3 di Insta360 Ha una doppia caratteristica Avendo due sensori anteriore e posteriore Potete usarla o come videocamera 360 come l'ho usata io fino ad ora Oppure potete andare nel suo software E switchare a parte risoluzione quello che volete Premendo questo tastino qui potete passare all'uso come action camera In questo momento come vedete la sto usando come se fosse una normalissima action camera Non una 360 che mi riprende frontalmente Perché sto usando soltanto il sensore frontale Volendo posso anche utilizzarla con l'altro sensore Quindi per riprendere qualcuno come farei con lo smartphone Il bello è che posso fare tutto anche in moto comodamente Premendo questo tastino Vedete passaggio all'obiettivo esterno E adesso vi posso far vedere meglio il paesaggio Però ste curve sarebbero state molto belle Da ripetere, da ripetere Non avete tirato dritti ragazzi, vero? Ma siete pazzi? Vabbè io vi ci portano i palmenti Intanto poi Avviso d'oro e gli dico di girarsi Alle mie spalle i palmenti di Pietragalla Sono praticamente queste strutture Queste casine rivestite di verde Sembra il paese degli hobbit E ovviamente questa ripresa è fatta con la Insta 360 1x3 Figata eh E poi qui guardate che vista che c'è soprattutto Ma che bella la 09 lì Ciao 09ina Sì la cosa bella è che qui Potete venire, passeggiare Sembra di essere davvero nella città degli hobbit Ora arrivano coi due malati Questo va più veloce sul bagnato Sì eh Dimmi subito al volo un pilota che andava forte sul bagnato Tu che li conosci tutti Alvevo si fa una battuta Bagnaia Gary McCoy In questo sono già entrato Qua ce n'è un altro Andavo su me di vedere Fino a quando non ti esce l'uccellaccio All'improvviso Bello però È un bellissimo posto Sta bene Temperatura perfetta Odore di arbetta E siamo arrivati nel paese praticamente Vedete se mi giro Questo è il paese di Pietragalla moderno Veniteci Perché è veramente carino Un'altra cosa bella della One X3 È la durata della batteria Sto continuando a registrare Lei ha ancora circa metà batteria Ottimo E tu l'hai acquistata la Insta360 One X3 Dai link in descrizione Vieni qua Ti metto sull'XR Che dici? Allora Qui ti puoi fare le unghie Qui Andrea Prende mazzate Oh ma non Ho visto Oh mica sulla sella Non è che te l'ha graffiata È unghie di un gatto sono Ma questo è normale che si muova così È un'escursione di un centimetro Per le turbolenze Hai capito C'è l'escursione per le turbolenze Poi c'è il navigatore che non funziona Abbandoniamo i palmenti Dai vi è piaciuto? E tornammo a rifigliare l'acqua Però che bei colori Nonostante l'acqua Per fortuna siamo al sud Si può ancora andare in moto A parte l'acqua Non fa freddo Basta coprirsi Serve la giusta attrezzatura Dato che stiamo per andare in battaglia Cioè per affrontare quel nuvolone nero lì Ci siamo calati l'antipioggia Prova a schiacciare il freno Vedi un po' Era po' la bagnata Era po' la fortunata Vai Eeeh il sound Vi ripeto la domanda Vorreste per caso un sound come questo? Chiaramente con le dovute differenze di cilindri Anche sulla tenere Fatemelo sapere con un commento Perché chissà Magari può succedere qualcosa Che è successo? Un rumore strano Eh ma questo era già così molle Va bene ragazzi Il nostro giro può dirsi concluso Io vi ringrazio per avermi seguito In questa avventura In questo misto Tra uscita turistica E uscita sportiveggioante Vi ricordo che potete acquistare La Insta 360 One X3 Dai link che trovate in descrizione Fatelo perché è semplicemente la migliore Mamma che bello là il tempo Fatelo perché è senza dubbio La migliore videocamera a 360 gradi Attualmente in commercio Tuttavia per questo video è tutto Io vi saluto Spero di prendere poca pioggia Tra pochi minuti E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao